un ragazzo molto sveglio tutta forza e volontà può riuscire sempre sempre al meglio e destino lo aiuterà gioca a golf con gran passione lottia del talento e lo sa forse un giorno diverrà campione come nei suoi sogni l'ho già con tenacia e grinta supera le difficoltà non si abbatte ma combatte per la vita tutti in campo con lotti lotti classe da campione siamo tutti in campo con lotti lotti ed un'ovazione per il gran campione tra i nostri cuori c'è già con fermezza e decisione sempre ad allenarsi lui va forse un giorno diverrà campione come nei suoi sogni l'ho già con tenacia e grinta supera le difficoltà non si abbatte ma combatte per averla vinta tutti in campo con lotti lotti classe da campione siamo tutti in campo con lotti lotti nostro gran campione siamo tutti in campo con lotti lotti è un'ovazione per il gran campione tra i nostri cuori c'è già ma 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 Grazie a tutti.